e poi fede spubblica questa foto sibillina un po you must die probabilmente rivolta ai giornalisti un po per per curarli perché si rincorrono le voci di un suo presunto rush all'ospedale per problemi allo stomaco problemi e invece lui sta benissimo come sta benissimo anche chiara ferrani oggi office day sotto la pioggia sorizzone e lei poi come sappiamo è in partenza per madrid con i bambini devo essere sincera una strategia social per me è un po strana nel senso che pubblica solamente delle foto e nient'altro nessun messaggio per i suoi follower non so chi gliel'abbia consigliata e però sanno sicuramente gli strateghi del marketing del dell'influencer marketing se ne intendono meno di meglio di me noi ovviamente parliamo un po col cuore nel senso che cerchiamo vorremmo rivedere chiara ferrani e suoi figli sui social prima possibile vi lascio ciao